Cos'è la miopatia mitocondriale? La miopatia mitocondriale è un termine generico usato per riferirsi a una famiglia di condizioni causate da disturbi che coinvolgono i mitocondri. I mitocondri sono organelli trovate all'interno delle cellule degli esseri viventi. Sono essenzialmente gli impianti di generazione di energia della cella, che convertono vari composti in ATP, una sostanza chimica che viene utilizzata per l'energia e la segnalazione cellulare. Quando i mitocondri non funzionano correttamente, possono verificarsi una serie di gravi problemi di salute, proprio come le case su una rete elettrica subiscono cali di tensione quando parte di una centrale elettrica si spegne. Nel caso delle miopatie mitocondriali, il malfunzionamento dei mitocondri porta a problemi muscolari. Questa è una situazione comune con le malattie mitocondriali, perché i muscoli hanno bisogno di una grande quantità di energia, e quando le centrali elettriche delle cellule sono spente o malfunzionanti, i muscoli tendono a soffrire. Alcuni esempi di miopatia mitocondriale comprendono, epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate, sindrome di Kerns-Aire e encefalomiopatia mitocondriale con acidosi lattica e episodi di tipo ictus, miopatia mitocondriale, encefalopatia, acidosi lattica e ictus. Queste condizioni sono causate da difetti genetici e possono variare in grevità. A molti bambini viene diagnosticata una miopatia mitocondriale sotto i 5 anni, anche se i sintomi possono manifestarsi anche più tardi nella vita. Attualmente non esiste una cura per queste condizioni, con la fornitura di cure focalizzate sulla gestione dei sintomi. I pazienti frequentemente frequentano la terapia fisica e possono assumere integratori vitaminici e minerali insieme a determinati farmaci. Alla fine, può essere sviluppata una terapia genica mirata alla miopatia mitocondriale. La debolezza muscolare è un sintomo comune della miopatia mitocondriale. I pazienti possono anche sviluppare ictus, convulsioni, cecità, palpebre cadenti, vomito e difficoltà nell'esercitare o muoversi. Il cuore è anche comunemente colpito, dal momento che il cuore è solo un grande muscolo, ed è quindi suscettibile di guasti nei mitocondri. I pazienti possono essere diagnosticati con una biopsia, in cui le fibre muscolari possono essere esaminate per segni di miopatia, e possono essere utilizzati anche test genetici. La prognosi per un paziente con una miopatia mitocondriale non è generalmente molto buona. Alcuni pazienti muoiono entro un anno a causa della gravità delle loro condizioni, mentre altri possono sopravvivere per diversi anni, anche vivendo una vita attiva. L'assistenza medica di supporto è fondamentale nella gestione delle miopatie mitocondriali e molti pazienti e le loro famiglie beneficiano anche dell'appartenenza a organizzazioni che si concentrano su persone con miopatie mitocondriali. Queste organizzazioni possono fornire supporto emotivo, consigli che possono aiutare i pazienti a gestire le loro condizioni e informazioni sulle sperimentazioni e ricerche mediche in corso che potrebbero essere utili.